Buonasera a tutti, oggi in studio con noi il segretario regionale dell'UGL Giuseppe Monaco. Grazie per questa partecipazione, con lui chiaramente parleremo di diversi argomenti che riguardano i lavoratori e cominceremo chiaramente per esempio con i precari. Devo dire, come ho detto prima della trasmissione, su questo argomento veramente io non ne sto capendo più nulla e penso che anche tutti i siciliani sono disorientati da varie dichiarazioni che si susseguono da parte di esponenti politici, anche da parte del Presidente della Regione come anche da parte del Ministro della Funzione Pubblica. Quindi cercheremo ora con Giuseppe Monaco di fare il quadro della situazione per quanto riguarda i precari. Cosa possiamo dire? Intanto dobbiamo dire che i precari sono un asse portante degli enti locali. Ricordiamoci che il blocco del turnover negli enti locali ha fatto sì che si sono creati all'interno delle piante organiche e dei comuni tantissimi buchi, soprattutto in settori nevralgici come ad esempio le anagrafi dei comuni, soprattutto in settori strategici. I precari hanno colmato questo gap. Parliamo non dei precari come solitamente in De, sebbene chiarirlo anche ai degli spettatori. Ci sono precari che hanno 25, 30 anni di precariato. Possiamo chiamarli precari? Precari storici diciamo, però in effetti non lo sono più. Sono precari storici. Io penso che, voglio anche mettere nel rapporto, nel settore privato, direttore, quando due contratti a termine sono consecutivi l'uno sull'altro, basta andare dal giudice del lavoro che riconoscerà quel rapporto a tempo indeterminato. Purtroppo nella pubblica amministrazione questo non è possibile per una regola ad hoc che disciplina il settore. Allora, spieghiamo ai telespettatori che cosa si è venuto a creare con... Si è venuto a creare un vulnus. In tutte le pubbliche amministrazioni abbiamo tantissimi precari, 18.500 all'incirca, che hanno coperto le piante organiche, lavorano e sono integrati nel sistema. Gli stessi sindaci affermano che senza questa massa lavorativa, senza queste persone che contribuiscono, chiuderebbero, alcuni settori sarebbero costretti a chiudere, le pubbliche amministrazioni degli enti locali andrebbero in tilt. Quindi noi dobbiamo partire da un concetto di base. Queste persone servono e se servono dobbiamo dare dignità al loro lavoro. Come diamo dignità al loro lavoro? Un precario, se va a chiedere un prestito per acquistare la casa, gli chiedono il contratto di lavoro. È una persona che non potrà progettare il suo futuro come tutti gli altri lavoratori. Sono persone che soffrono di uno stato di cose che li mette in condizione di non poter svolgere la propria vita in maniera serena, nonostante abbiano uno stipendio, nonostante la pubblica amministrazione li paghi da 20, 30 anni. Quindi per quale ragione noi neghiamo il diritto a questi lavoratori? Il fatto che poi i precari in generale nel corso degli anni sono aumentati. Ora il numero non è solo di 18 mila, ma noi abbiamo altre cifre. Quindi come si può affrontare questo? Qual è la proposta del sindacato per risolvere questo problema? Beh, intanto sarebbe opportuna, una cosa che non è andata all'interno del patto di stabilità, ci volevano a deroga al patto di stabilità, che consentisse ai comuni virtuosi che hanno delle risorse disponibili da mettere in campo per la stabilizzazione, che gli sia possibile metterle. Il patto di stabilità glielo veta anche ai comuni virtuosi che ben volentieri potrebbero e vorrebbero stabilizzarle. Quindi assolutamente è un adereo al patto di stabilità. E anche sull'atteggiamento di questo governatore penso che dobbiamo sottolineare un aspetto. Il governatore Crocetta ha fatto i viaggi della speranza dal governo Letta, chiedendo tutta una serie di deroghe, tutta una serie di meccanismi che consentissero l'apertura alla stabilizzazione, cosa che non è stata concessa. Ma sembrava che ci fosse proprio un articolo di legge che consentisse, invece non è così. Un articolo di legge non c'era e non lo consentiva. Nemmeno un emendamento non c'era nulla in sostanza. Pare che Letta abbia risposto e abbia detto che gli accordi non erano questi. Quindi tutti questi viaggi sono stati completamente inutili. Ma una cosa io devo rimproverare a questo governo regionale. Noi sappiamo da una vita che abbiamo questi precari. Era all'ordine del giorno, era nelle campagne elettorali. Perché ci pensiamo all'ultimo mese? Noi siamo quelli dell'emergenza. Un governo che improvvisa. Ma cosa può succedere? Perché non si può improvvisare. E effettivamente queste persone potrebbero andare fuori dalle amministrazioni comunali se non si riesce a trovare una soluzione. Ecco, cosa potrà accadere? Questo non accadrà. Perché innanzitutto bisogna approvare il bilancio della regione in 2021-2012. Questo consente, una volta approvato il bilancio, di tracciare una proroga, di vedere i soldi che ci sono. In questo senso, diciamo, la legge di stabilità, io la chiamo la legge di instabilità, perché ha reso ancora più stabili i precari. In tutto questo, come nelle altre cose di cui parleremo, io ho percepito chiaramente che tra i sindacati, i confederali, voi, gli altri autonomi, e il governatore, sì, c'è un certo tipo di rapporto, però questo rapporto non riesce poi a produrre effettivamente delle iniziative positive, sia per la Sicilia, per i lavoratori e per tutti. Ma perché c'è questa difficoltà, come possiamo dire, di dialogo, non solo dialogo, perché parlare è semplice, e poi di operatività? Beh, intanto il sindacato fa il sindacato e chi governa deve fare il governatore. Cioè, il governatore e il governo devono fare il governo. Noi rappresentiamo delle esigenze, delle esigenze che vengono dalla pubblica amministrazione e delle esigenze che vengono dal mondo del lavoro. ridando quella dignità. Il crocetta praticamente dichiara che vuole ascoltare il sindacato, però forse l'ascolta, ma poi nei fatti non avviene nulla. Il fatto è che noi arriviamo troppo tardi, arriviamo un mese prima che scadono i contratti. Questo è un problema che va affrontato all'inizio della legislatura, aprendo un tavolo di confronto con il governo centrale. E non l'ha voluta. E non l'ha fatto. E perché non l'ha voluta più? E non l'ha fatto perché mentre... Potresti che lui credi di essere pure un sindacalista. Ecco, questa è la vera preoccupazione. Abbiamo sentito da giornali di oggi, di ieri, insomma dappertutto che il governatore dichiara che scenderà in piazza con i lavoratori. Ben poco ci frega se scenderà in piazza. Lui ha il compito di governare, deve governare e cercare, sforzarsi di dare le risposte a tutti quei lavoratori che sono finanziati dalla regione in termini di stipendio. Mi riferisco ai precari. Noi non gli chiediamo di fare il sindacalista, gli chiediamo di fare il governatore. Lui deve aprire un tavolo, bisogna riaprire una moratoria col governo centrale. Bisogna far sì che ci siano delle deroghe alla legge di stabilità che consentano di stabilizzare i precari. Bisogna fare un programma pluriennale, come la stessa Cigelle e Cigelle Will hanno fra l'altro auspicato. Un piano pluriennale che consenta progressivamente di stabilizzare questi precari. Per stabilizzare le regioni sappiamo che è impossibile. Ecco perché bisogna pensarci all'inizio della legislatura, non bisogna pensarci quando a un mese scadono i contratti. Lì è la demagogia. Ma da che cosa può essere frenato Crocetta? Dalla sua personalità, dal suo modo di vedere la politica in un determinato modo, oppure dal fatto che non è sorretto da una maggioranza ferma? Certamente non si contraddistingue per avere una cultura di governo. La cultura di governo è una cosa molto seria che va impostata innanzitutto a monte, creando i rapporti giusti con i governi centrali, con la propria coalizione, con chi potrà far parte ancora della coalizione. Io non penso che il governo abbia improntato i propri rapporti e le proprie relazioni all'interno di questo contesto. È una scelta di campo. Ma questa scelta di campo non produce effetti, non produce concretezza. Produce soltanto, dico, se sta cosa io non riesco a farla, scendo in piazza con i lavoratori. Beh, mi dico, in tutto questo il sindacato... Lavoro mio lo faccio io. Perché io ho avuto pure Bernava come ospite. Bernava riconosceva che il sindacato aveva commesso, diciamo, un errore, tra virgolette, e se l'errore si può considerare. Il fatto di non essere stato molto più rigoroso. Secondo me, in questa fase... Noi lo siamo sempre stati con questo governo. In questa fase, però, ne conviene che bisogna essere rigorosissimo, altrimenti i conti non si aggiustano. Dico, intanto, se non ci si vuole ritrovare 20.000 persone sopra la propria scrivania, bisogna comprendere che bisogna essere rigorosi. Adesso, nel rispetto delle regole che questa legge di stabilità ha imposto per dare, come dire, una proroga a questi contratti. Immaginando un processo di stabilizzazione che differenzi le varie tipologie contrattuali di precari, di cui ce ne sono tante, non ci soffermiamo, sono abbastanza complesse, però bisogna entrare nel meccanismo e, soprattutto, fare un programma pluriennale. Non li puoi domani mattina. Questo programma bisogna farlo oggi. A Crocetta qualche merito va riconosciuto. Mi aiuti? Lei, perché è difficile. Io, quello che leggo sul giornale, perché non amo molto seguire la politica, perché ho confessato all'inizio, l'ho confessato, adesso mi confondo in questo momento, quindi preferisco rimanere un pochettino più, indubbiamente, però, i temi che riguardano i cittadini, bisogna sempre affrontarli e quindi con tutto, diciamo, l'attenzione possibile e immaginabile. Crocetta, però, avete il coraggio, dobbiamo dire, di denunciare il malaffare che c'è stato, per esempio, nella formazione. Mi direte, ma è normale che bisogna denunciare tutto quello che non è normale. Lo capisco, però altri probabilmente non avrebbero avuto questo coraggio. Lui l'ha avuto, gli diamo del merito. Ci ho premesso cosa dico, però ora mi aspetto che per quanto riguarda la formazione ci siano delle iniziative talmente chiare da evitare che in futuro ci possano ripetere gli errori che sono stati evidenziati. La formazione professionale deve diventare una cosa seria. Innanzitutto, non può diventare una cosa seria con questi numeri. I numeri sono totalmente sproporzionati, noi lo sappiamo, e noi rendiamo perito a questo governatore di avere la volontà di affrontare questo problema, cominciando con, come dire, a mettere le mani sulle ruberie, sui bilanci falsati, sulle cose che non funzionano. Quindi non è che non vogliamo dar merito, ma non è sufficiente. Se io faccio chiudere una serie di enti e alle spalle ci sono tutta una serie di enti, devo immaginare una politica concreta, devo immaginare un percorso virtuoso, perché queste persone possono avere una giusta collocazione. Non è sufficiente, dire io taglio. Il governo Crocetta, anzi, il governatore Crocetta, si contraddistingue per fare deserto. Qui c'è una foresta con i rami secchi, con gli alberi che ormai stanno seccando, io rado al suolo. Ma poi bisogna concimare, seminare, bisogna far sì che dove ho creato il deserto possa riferire i germogli. Io temo che la sua politica di improvvisazione, ricercando sempre il sensazionalismo sul giornale, facciamo arrestare il tizio perché ha fatto lo scandalo, bene, grazie, però poi ci vuole il resto. E noi temiamo che la sua politica sensazionalistica, questa voglia di stare sui giornali dicendo ho fatto arrestare i mafiosi che ci sta, che va bene, che lo vogliamo, sia insufficiente per affrontare e risolvere i problemi anche parzialmente, sia insufficiente. Questo temiamo, gliene diamo merito, bisognava che ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di mettere le mani lì dove c'erano le cose sporche e lui, dico, questo lo fa e noi gliene siamo grati, è insufficiente, bisogna capire che è insufficiente. Intanto però comprendo che per portare un'azione avanti del genere sulla formazione occorrono appunto delle scelte precise politiche, il sostegno politico, il coinvolgimento da parte di tutti i sindacati. Però abbiamo visto, abbiamo letto anche stamattina che i sindacati non siano tanti uniti, anzi hanno raggiunto un obiettivo, quello di essere divisi su, in posizioni tutte diverse. Quindi questo certamente non aiuta. Ecco, cosa bisogna fare? Direttore, io sono stato a Siracusa il giorno 23 per lo sciopero generale, manifestavamo a Siracusa, c'era il segretario generale della CGL, c'era la Will, non c'era la CISL, ha ritenuto di manifestare diversamente e in altro luogo. Le ragioni ben non si comprendono, ma probabilmente sono frizioni interne al grande sindacato rappresentato da CGL, Cisla Will, ma io in quella sede diciamo, ebbi a dire al popolo riunito lì di CGL, Cisla Will, ma dove c'erano anche i nostri, che il fronte dei lavoratori è unito, i lavoratori se ne impippano delle diatribe che ha un segretario generale con l'altra organizzazione. Quando c'è un problema, il problema va affrontato congiuntamente. Per questa ragione, noi mentre a Siracusa manifestavamo insieme ai nostri amici segretari generali della CGL e della Will, ci trovavamo a Palermo a manifestare insieme ai Cobas, insieme ad altre forze spontanee che sono arrivate, c'erano movimenti studenteschi ed altri. Perché dove le ragioni sono buone, noi non possiamo guardare se stiamo col tizio o stiamo col caio. Ci piacerebbe sempre avere un fronte comune e congiunto. Io ricerco quotidianamente le intese con CGL e Cisla Will. A volte mi snobbano, a volte ci siamo, a volte riusciamo a esserci. Di questo non mi lamento. Accetto sempre quello che mi viene rivolto, ma auspico sempre. Come guardate come Ugella al quadro politico? Chiaramente l'Ugella viene inquadrata in una posizione più di centro-destra, però ormai è difficile fare delle considerazioni. Mi aiuti, mi aiuti, mi aiuti. Mi aiuti a capire. Io ho l'unità sempre di apprendere cosa nuova, perché veramente dalla politica di quest'ultimo periodo c'è da apprendere molto, perché si crea un nuovo centro-destra. Non abbiamo disagio. però c'è una confusione generale. Assolutamente sì. Voi come vi ponete rispetto appunto alle posizioni politiche che si sono determinate in quest'ultimo periodo? E cosa auspicate chiaramente? Io dico nei rapporti con la politica noi cerchiamo di avere... Previsto che il sindacato rimane sempre autonomo. Questo me l'ha sottolineato lei e noi abbiamo contestato qualsiasi governo di qualsiasi tendenza. Quando c'era da contestare ci piace continuare a farlo. Il sindacato è per antonomasia d'opposizione, no? Non perché la fa gratuitamente e fine a se stessa ma perché i lavoratori consegnano un altro ruolo e non quello di governare insieme al governo che si trova. Detto questo noi, come dire, proveniamo da un'area culturale molto più vasta un'area che va dal centro al centro-destra ma è soltanto un'area culturale. Poi al nostro interno grazie a Dio abbiamo componenti di tutte le estrazioni e questo per noi è motivo di gratificazione. Purtuttavia facciamo delle considerazioni sulla politica su come si organizzano i partiti perché questo ha un reflusso diretto sul governo e su quello che può venire ai lavoratori da quel governo. Per cui dico quello che sta accadendo ad esempio attualmente nel centro-destra io lo vedo con un assoluto atteggiamento positivo. C'erano delle posizioni che erano ormai stanche ormai ripetitive ormai avevano quindi l'evoluzione naturale della politica è stata quella che come dire si è ricreata una nuova cultura di governo attorno al leader attorno a Berlusconi quest'area culturale ha e gli è grata ha avuto come dire uno spazio importante oggi bisognava voltare pagina. Noi consegniamo come dire staremo a vedere tutti anche noi non abbiamo né palle magiche non sappiamo come atterranno quello invece di cui io sento dover ho questa sensazione la Sicilia soprattutto non è una regione di sinistra è una situazione se trova i leader giusti se trova le proposte giuste e intelligenti è un'area moderata possiamo definirla così i siciliani sono intrinsecamente dei moderati però errori diciamo del passato hanno portato ad una situazione che era inimmaginabile al di là dei meriti di Crocetta e di chi lo ha sostenuto però siccome noi abbiamo a cuore il benessere di tutte le siciliane e della Sicilia che è una terra splendida e importante allora ci preoccupiamo quando appunto non vediamo dei governi forti che possono attuare soprattutto le riforme non modifichare lo statuto perché tutti ormai dicono modifichiamo lo statuto e poi non si modifica nulla come la Costituzione ma quelle riforme che consentirebbero uno sviluppo notevole per quanto riguarda la Sicilia qual è lo stato di salute dell'Ugella in Sicilia adesso ci arrivo solo una battuta volevo fare ma che fine ha fatto la riforma della burocrazia noi ci siamo dimenticati che come dire tanta classe imprenditorale c'è stato uno studio di Demopolis se non ricordo male dove si evidenziava che gli imprenditori temevano di più diciamo la burocrazia che la mafia un dato totalmente paradossale dico ma crocetta che ci ha fatto una campagna elettorale su questa cosa dico perché non ci mette male perché non aiuta l'impresa a chi ha un buon progetto una buona idea a poterla sviluppare senza doversi suicidare con la burocrazia e torno allo stato di salute dico questo solo un appunto non dobbiamo dimenticare una cosa che il politico passa il burocrata e resta e questo è la maggior ragione e quindi ecco la riforma della burocrazia dovrebbe appunto finire per disincrostare tutte quelle appunto incrostazioni che ci sono e che ancora non si sono riuscite a dire siccome è finita la campagna elettorale alla prossima campagna elettorale ne parleremo questo è quello che contestiamo ai governatori che le promesse si fanno in campagna elettorale poi quanto meno bisogna lavorarci per realizzarle lo stato di salute è l'Uggelle in Sicilia noi siamo io la ringrazio della domanda intanto siamo veramente molto molto soddisfatti perché siamo soddisfatti i numeri ci danno ragione abbiamo una crescita e molto spesso abbiamo difficoltà nel gestire questa crescita noi siamo adesso diciamo sottoscriviamo e siamo contratti e sottoscriviamo contratti dove non c'eravamo ad esempio nel pubblico negli statali non eravamo rappresentativi adesso lo siamo c'è noto l'aran io stesso godo di un distacco sindacale che viene da quest'area ma adesso grazie anche alla fusione con un pezzo del SADIS con altre organizzazioni che hanno compilito adesso quando andremo entro il mese di dicembre a verificare i dati della regione siciliana ci accorgeremo che abbiamo quasi raddoppiato gli iscritti no? a volte a volte riusciamo a superare anche qualche grossa organizzazione di cui non faccio il nome però dico in termini di iscritti abbiamo diciamo un consenso che poi però questi li indicano dobbiamo rimettere a posto le cose però è una crisi di crescita positiva ci dà grande soddisfazione grande soddisfazione il vostro sindacato possiamo dire grande sono pochi i grandi sindacati però dico il fatto che ne esistano altri molti autonomi questo è produttivo oppure finisce un pochettino per creare qualche non posso dirlo fastidio ma indubbiamente nei rapporti anche con l'amministrazione una volta che si debba incontrare varie sigle ci sono difficoltà chiaramente dialettiche notevoli di tempo guardi noi ancora subiamo sto tavolo tecnico sul precariato era fatto da Cigiele Cigiele Will l'assessore alla funzione pubblica forse non lo sa che noi siamo rappresentativi nella pubblica amministrazione e nella maggior parte dei settori della pubblica amministrazione non ci hanno invitati non abbiamo fatto una polemica però bisogna fare attenzione su chi sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali e immaginare che molto spesso i lavoratori tra loro sono più uniti di quando non lo siano le sigle per questa ragione bisogna avere rispetto anche delle piccole organizzazioni bisogna appesarle per quello che valgo per quello che rappresentano nella sanità siete anche presenti sì siamo presenti nella sanità però non firmiamo a livello nazionale il contratto della sanità nonostante in Sicilia siamo fortissimi sulla sanità non firmiamo il contratto perché l'UGL molto spesso è a macchia di leopardo fortissima in Sicilia in Campania in Puglia nel Lazio quando comincia a andare nelle regioni del nord ha dei gap questi gap si ripercuotono spalmati poi su tutto il resto ci creano dei gap quindi non firmiamo il contratto della sanità ma firmiamo quello privato dove siamo fortemente rappresentativi invece perché l'argomento della sanità è un altro degli argomenti chiave perché la spesa è maggiore sia per la sanità però vediamo che molte volte i servizi e le prestazioni non sono all'altezza oppure non c'è per tutti i cittadini una assistenza come posso dire che sia adeguata e che sia all'altezza di una regione civile come dovrebbe essere la Sicilia la sanità della regione siciliana in generale è uno dei grandi buchi uno dei grandi delle grandi macchie nere di questa regione nella sua generalità il sistema di gestione perpetrato negli anni ha visto solo meccanismi clientelari sia nelle assunzioni sia nella gestione proprio Crocetta è una cosa che fa benissimo non ha fatto arrestare un gruppo che facevano non mi ricordo se erano pannoloni o altri insomma ma lui in questo è bravissimo e in questo bisogna insistere bisogna ridare trasparenza al sistema la trasparenza crea risparmi non è vero che la trasparenza crea soltanto affaticamento burocratico crea risparmi e crea anche snellimenti delle attività a questo non seguono devono seguire necessariamente il miglioramento dei servizi guardate io ho seguito molto e ho apprezzato anche la politica dell'assessore russo oggi criticatissimo ma noi non ci dobbiamo ricordarci che quando l'assessore russo come dire entrò nelle sue nelle sue prerogative di assessore noi eravamo in default a volte ce lo dimentichiamo con una serie di tagli a volte faticosi a volte difficili molto spesso mediati con i sindacati perché noi non eravamo firmatari ma abbiamo dappertutto quindi partecipiamo attivamente a questo tipo di alla politica di austerità che aveva imposto grazie a lui oggi noi possiamo sperare con la Borsellino ed è anch'essa un buon assessore su cui possiamo fidarci gli scivoloni li prende anche lei l'abbiamo visto recentemente con la polemica su un ospedale sulla concessione sull'allargamento dei posti letto di un ospedale del Catanese se non ricordo male è umanità detto questo detto questo la sanità è una delle cose più importanti per tutti i cittadini per tutti i cittadini lavoratori e quindi bisogna dare dei servizi adeguati garantire trasparenza e soprattutto mettere in campo quei risparmi che a mio avviso ancora si possono mettere in campo noi abbiamo interi reparti che hanno i magazzini i macchinari che non funzionano io risparmio questa cosa perché già ci ha pensato la magistratura in alcuni casi quindi diciamo non abbiamo la necessità di scrivere nome e cognome ma ci sono degli sprechi ancora enormi a cui si può mettere mano noi sappiamo che la spesa sanitaria del nord dà migliori servizi e poi spende meno vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa c'è molto da fare un ragionamento di carattere generale perché fine anno si caratterizza come il periodo in cui ci sono i regali di Natale ma ora abbiamo visto anche molte tasse da pagare ecco che Natale si debbano aspettare gli italiani e i siciliani io prima di venire qua sono andato a vedere qualche dato diciamo che ci aiuta a capire un anno fa presso questi studi ma anche su studi di ultima intende locale dicevo che il PIL nel 2013 non è vero rispetto alle indicazioni di ripresa che venivano dati l'anno scorso sarebbe aumentato perché gli indicatori e gli esperti di economia ci davano altri dati questo si è verificato puntualmente abbiamo ragione di credere che il PIL nel prossimo anno andrà giù ancora non è vero che ci sono i sintomi non c'è il sintomo di alcuna ripresa i dati ce lo danno anche l'osservatorio Istat ci dà questo tipo di indicazione cito un dato di Feder Consumatori non è il mio ma meno 11% io penso che sarà di più perché alla fine tutti aspettano tutti i lavoratori tutti i lavoratori dipendenti aspettano questa benedetta tredicesima per far fronte all'assicurazione della macchina alla bambina quindi i consumi si contraggono su beni di prima necessità e certamente quello spreco quel momento di spensieratezza nelle spese che ci concedevamo a Natale non ce lo concediamo più certamente non i lavoratori dipendenti i ragazzi protestano in questi giorni hanno occupato le scuole ma è mai possibile che ogni anno anche su questo argomento nessun governo abbia l'attenzione necessaria per evitare appunto che ci siano rimostranze da parte dei giovani che poi in definitiva fanno un danno a se stessi anche se portano avanti delle iniziative che sono diciamo ma quando all'edilizia scolastica ci si pensa quando devono iniziare le scuole dico io dico sempre lì dico noi sappiamo i problemi che ogni assessorato ha e li sa al momento in cui si insediano sa che ogni anno prima di iniziare le scuole bisogna mettere a posto le aule bisogna vedere il contratto con i riscaldamenti bisogna riparare i vetri rotti sto facendo gli esempi più banali e dico poi alla fine non è per avercela sempre con i governatori bisogna pensarci per tempo molto spesso le proteste degli alunni sono delle proteste giuste faranno un giorno più di sciopero perché così marchiamo rispetto diciamo a quello giusto che serve per dare un'indicazione su questo possiamo concordare ma io penso che nelle scuole soprattutto nella scuola ci siano delle proteste interpretate come le possono interpretare i giovani con enfasi con fantasia a volte anche con qualche eccesso possiamo dirlo ma certamente le ragioni di base sono giustissime abbiamo come dire governi che improvvisano quando va bene e sono in buona fede a volte improvvisano essendo in mala fede non è il caso di questo governo Giuseppe Monaco la mattina quando si alza si guarda lo specchio che responsabilità si sente nel ruolo di segretario regionale di un sindacato importante come quello dell'UGL gli obiettivi che ci diamo ogni mattina sono di due ordini uno oggi cosa posso fare per dare una mano al mio collega lavoratore non al mio collega sindacalista che magari può essere tentato da altro al mio collega amico lavoratore cosa posso fare questo ci dà l'agenda ed è un problema l'altra cosa a cui penso e dico come posso fare più forte la mia organizzazione come può contare di più la mia organizzazione può parlare con CGLC deve parlare con questo governo ma facendolo tradisce gli interessi di quei lavoratori per cui io mi preoccupo la mattina o no è la sera che invece cosa pensa la sera c'ho poco da pensare perché arrivo a letto e mi tuffo ma c'è qualche cosa cosa rimane di più rimane e uno pensa tutto quello che avrebbe potuto fare non ha fatto molte amarezze rimangono le amarezze sono tante sono più le amarezze che le soddisfazioni devo dire se uno ha un animo sensibile le amarezze le amarezze sono tantissime perché si pensa che come dire io mi armo della sindrome di Don Quixote la mattina che vorremmo rivoluzionare cambiare il mondo poi la sera ci siamo accorti che il mondo non l'abbiamo cambiato io però vado a letto sereno penso ho fatto quello che potevo fare quindi la coscienza a posto vado a letto con la coscienza a posto però dico sempre come dire domani mattina bisogna ripartire la famosa legge del deserto o sei leono o sei gazzella devi correre la mattina e questo ci tocca perfetto allora concludiamo qui questo nostro incontro io ringrazio Giuseppe grazie a voi per questa partecipazione ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito buonasera a tutti grazie a tutti